Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Beh devo dire le virate perché sono... Ha pilotato anche lui? Ho provato a pilotare ed è molto sensibile però... Ce l'ha già, ce l'ha molto. Bene, bene. Non ho fatto nulla, solo ho tenuto il motore e ho pilotato lui. Perfetto, grazie. Grazie a te.